Bismillah addellal, salatussalam al-resolat abbiamo ricordato che il richiamo dei nomi sulmani avviene richiamando loro a Tawqin Uno dei sapienti, dei sapienti di Nisulmani, gli sciviti chiedono a lui di discutere, di fare una discussione. E abbiamo detto che la cosa giusta non è dibattere, pensieri, chiamati all'Islam. Gli hanno detto che vogliamo riunire i grandi, i raffiditi, i sciviti e dibattere con l'altra. Così sono messi d'accordo del luogo e della data. E si sono uviti. Ed è venuto da solo questo sapere. Quando voleva, stava per entrare in quel posto, ho chiamato il luogo e dobbiamo subito alla maniera. All'ai detto che il luogo è solo, non lo so, di riporare al salio. Non so, il luogo del luogo e allora gli islamato. Ho chiamato il luogo sentimento a lui. Non lo so, non lo so, dovrei fare un luogo, vorrei sentire il luogo, non lo so. Non pensavo, non lo so, non lo so. Ho chiamato il luogo nel luogo, non lo so. Non si so. Non sai perché la ruota. Ma sai? Lui! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.